Ma che cosa sono quei? Sono due Pokémon! Sono due Jigglypuff! Oh, ma tol me! Eh, ciao a tutti ragazzi! Quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo su un video molto particolare perché, come avrete letto dal titolo, ragazzi, oggi andremo a scrivere ad una mia fan. Cominciamo col dire che la ragazza che andremo a contattare è una compagna di classe di uno di voi che mi ha scritto su Facebook dicendomi semplicemente questo qua è il suo numero, è una tua fan sfegatata, scrivile per farla felice e allora ho pensato, ma tol me! Sì, lo so incredibile, ma ogni tanto penso e siccome è una cosa che fa tanto, e dico tanto di moda ultimamente qui su YouTube farle uscire, perché no? Come vedete ragazzi, so soltanto che la ragazza in questione si chiama Veronica l'ho salvata, diciamo, su Prozap e adesso le andremo a scrivere. E tanto per dire, guardate che bella fotina che ho su WhatsApp Pulci pulci Ma senza perderci in ulteriori indugi io andrei a scriverle semplicemente e ciao Veronica Niente di esagerato, un saluto Adesso non so quanto effettivamente mi segua però non lo so, questo ragazzo che mi sembra si chiami Mirko mi ha detto che è una mia fan sfegatata sono compagni di classe e aspettiamo che risponde se risponde Jodin, scusmi i messaggi che vi in questa chat e le chiamate sono ora protetti che culo, meno male meno male che c'è la criptografia così se mi manda le lettette non si impressiona nessuno sempre se risponde colleghi Sì, va bene, mentre... Eh, sembra un DJ Oh, oh, aspetta, ha visto, ha visualizzato Ok, eh... E fu così che Peppo venne bloccato e mai più considerato la tristezza Oh, Matton B Sta scrivendo Attenzione incredibile cose Matton B Chi sei? Vabbè, chi sei? Chi sono? Si vede nella foto chi sono Con un velo misterioso Mi dovresti conoscere E visto che anche io guardo i video di Tyler lui usa tanto la faccina pervertita Ma siccome noi siamo sbrechi sia la faccina pervertita la usa lui noi mandiamo la bandiera del Brasile La malattia No, vabbè, non mandiamo No, vabbè, non mandiamo faccina Ecco, mandiamogli la faccina pucciosa Ecco, gli mando il cane Ecco No, ora pensa che gli ho dato della cagna Mi sa un attimino che sulle faccine ci devo lavorare Non le so ancora usare Conosci Peppo? Chi vuol dire conosci Peppo? Cioè, io dico, mi dovresti con... Ah, forse ha visto la mia foto Conosci Peppo? Eh, sì, lo conosco molto bene a Peppo Come le mie tasche Vabbè Oddio Ma che approccio è? È un approccio... Fintissimo Ma che approccio è? Ma dove? Ma Tony Sì, però, Veronica Ma Tony Spicciati cazzo Quanto sei lenta a rispondere Sei la sua ragazza? Ovviamente, dalla foto No, no, sono Peppo Eh, te lo devo dire che sono Peppo No Sono proprio io Eh, ma Tony Incredibile No, Dio Non ci... Ma no Sono io Ma no, sì Sono io Perché qualcun altro dovrebbe mettere la foto mia e della mia ragaccia? Perché dovrebbe? Ma... Why? Per prendermi in giro Mia zia me lo dice sempre Cosa? No, sono serio Sono io, Peppo Perché ti devo mandare un selfie Anzi, ecco, ecco Prendiamo il cellulare A questo punto gli mandiamo il selfie Così vede che sono io Facciamo un selfie col bacino Fatto! Guardate che bel selfie È bello, eh Perfetto Manda la foto Ma con quale faccia Ma è un pervertito Sembra in questa foto Beh, oddio Un pervertito Forse anche due o tre pervertiti Oddio 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 Eh, vabbè Eh, ti amo Eh, c'è la mia Mi spoglio Te le esco Eh, vabbè Addirittura Eh, vabbè Eh Manco fossi Brad Pitt a cena Con Johnny Depp Non so come si scrive Sì, ho visto Eh, vabbè Ma ogni tuo video Adesso tutti Eh, ti amo Eh, vabbè È impazzita È implosa Questa ragazza Eh, sei meglio di loro Quanto sono sexy Eh, adesso però serve un qualcosa Per attaccare il bottone E fargliele uscire L'importante è Non togliersi i vestiti Psicologia inversa No, però aspetta No, aspetta Fermi un attimo Prima di continuare Cosa importante Lo sapete Sempre meglio controllare prima Non ci sa mai Eh, non ci sa mai Sapete come funziona, no? Non mi pare il caso Direi proprio di no 18 perché 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 è meglio così È maggiorenne Meno male Ma prima di arrivare Al sodo, no? Proprio alle Che All'interno dell'uovo, no? Quanto meno conosciamo Un attimino Che scuola Frequenti Cioè, così Giusto un attimino Per entrare nel discorso, no? Non è che possiamo Scrivere una ragazza Ciao, ciao Ma esci? No Fai schifo Sì, lo so Sono un porco Cioè, capite bene Il discorso non va Ecco Che poi ora che ci penso La storia della compagna di classe Ad agosto Non ha un cazzo di senso Matami Frequento l'alberghiero Oh Che bello Io ho fatto L'artistico Che poi ora che ci penso Non vi ho fatto vedere La sua foto Che poi dai È molto carina È una ragazza Veramente carina Certo Poi se andiamo A leggere lo stato Magari non sta Poi tanto bene Però vabbè Comunque ragazzi Un segreto Andate diretti Comunque Sei molto carina E tra parentesi E se la mia ragazza Sapesse Che ti sto dicendo Questo Vabbè questi Che cosa mi tocca fare Che cosa mi tocca fare Matami Comunque dai Chiediamole qualche altra foto Hai altre foto di te Così per vederla Tranquil Tranquillo Che io non dico niente Certo Manda 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 Siamo tutti curiosi qua Oh ce l'ho mandata È dell'altra sera questa Beh oddio Non è male Non è assolutamente male Ma oddio È il Colosseo questo Sei di Roma? Ma tornemi però Quanto cavolo È lenta a scrivere Ma tornemi Veronica Veronica È vero che sei carina Ma sei lenta Cazza Ambrolan Ambrolan Cazza Sì sì Abito vicino Il Colosseo Eh ma tornemi Che in centro a Roma Ti può Ma adesso Il nostro obiettivo È fargliele uscire Diciamo più o meno Abbiamo instaurato Dialogo No Facciamole un complimento Ma un po' vago Sei molto carina Con quel vestito Ecco le mandiamo Un pochettino Di facce pervertite Che mo ci stanno Ecco sei molto carina Con quel vestito Chissà come sarà Sotto Quel vestito Eeeh Altre facine Vai Eeeh E poi ci mettiamo Un cucciolo Così per par condici Perché il cucciolo È tenero No Sono senza parole Ma tornemi Ma tornemi Che mi chiedo seriamente Come tutta YouTube Possa fare Questi genere di video Cioè Ma tornemi Ha risposto Ma Peppo Sei un birbantello Allora Eeeh Sono un delfine Curioso io Eeeh Sai La curiosità Eeeh Non Cioè Sai No Ma tornemi Quanta lenta a scrivere Per carità Va bene Che non ci abbiamo fretta Però un attimino Sono le 14 e 8 Ancora deve rispondere Abbiamo cominciato a parlare Eeeh Ma tornemi 20 minuti fa Scriviamole nuovamente noi Comunque Se ti va Una piccola Fotina Potrei Accettarla E le mandiamo Qualche altra faccina Ma tornemi Proprio Buttaglielo di faccina Buttaglielo di faccina Eeeh Ok Ma la smetto Un'altra Un attimo Oh mio dio Ora beh Non so che foto Abbia capito Tipo ora me ne mando Un'altra del colno Oddio Speriamo di no Però Come ti sembra in questa Eeeh Ok Ah Ah ok Ok E beh oddio È carina dai Come ti sembra in questa Molto molto carina Io sono fidanzato Quindi non lo andrò a scrivere Ma voi ci potreste anche mettere No se te lo butterei Con amore Per carità Con molto amore Però Molto carina Davvero Sempre gentili Con le donne Sempre gentili Non fatti i sorsi Però sta di fatto Che ancora la foto Non l'abbiamo ricevuta Quindi ma io Ero tanto curioso Di vedere Un pochettino Sotto la maglia Eeeh Sai C'è la curiosità Schiaffo sulla mano Queste curiosità Ragazzi sta scrivendo Tipo ora mi dice Oh fai schifo Non ti mando niente Oppure No 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 Ma Peppo Che dici Sei pure fidanzato Eeeh lo so Ma infatti io non tocco niente E per una giusta causa Guardare ma non toccare Io non tocco niente E con questa perla Ho vinto tutto Infatti non tocco niente Uno va al museo Per guardare le opere d'arte Mica per toccarle E' un pochettino Ma tonni mi Mi sento tanto Tyler Strike In questo momento Anche se i suoi rect E' un po' più figli Però vabbè E poi mia zia Non vuole nemmeno Che mi faccio vedere Qual è il problema Non farti vedere in viso Tanto semplice Riprendi quello Che devi riprendere Nessuno vede niente Fatta Ma tonni mi Il disagio Il disagio Oddio ragazzi Ha risposto Mmm Non saprei Alla fine Fa caldo E' un'estate Così calda Quindi è solo Per combattere Il caldo In effetti In questo momento Non ho la maglietta Dovrei Eppi falla Ancora che perdi tempo E appunto Una volta Che sei così Tanto vale No E al suo punto Dice tu fai Fatta No E vai lì Scatti Fatta Tolto il dente Tolto il dolore Oddio ragazzi Dammi un minuto Allora Ragazzi seriamente Se l'esce Dobbiamo arrivare Almeno Almeno Oggi voglio esagerare Almeno Almeno A 33 Like Almeno Poi però Voglio sapere Che ne pensi Ovviamente Si E c'è Un minimo Cioè Mi metto lì C'è Proprio La commentiamo Va Che facciamo Tipo youtube Lasciamo i commenti Mettiamo i mi piace Cioè Figurati Mamma mia Ragazzi Mamma mia Ragazzi Oddio E' arrivato Qualcosa E' arrivato Qualcosa Addio Addio Le uscite Ho Mottoni Ho Mottoni Ma che cosa sono Quei sono due Pokémon Sono due Jigglypuff Oh Mottoni Sei morto O stai facendo Altro Eeeh Mi ricconcella Complimenti Alla mamma Ma Jamie Mottoni Ma no Ma no Comunque Se siamo riusciti A fargliele uscire Io lo vado a dire Subito A mio fratello Jammie 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 No ragazzi No ragazzi Veramente Se volete vedere Quella foto lì Che mi ha mandato La fan Mica lui La fan Me l'ha mandata Arriviamo a 1500 like E vi giuro Che vi dirò La parola Per trovarla Su google Quindi Non è un problema Ecco Torno Torno Ciao Veronica Ciao Veronica Ciao Veronica Ciao Veronica Sei bellissima Veronica Ciao Veronica Bella quella foto Appena arriviamo A quei like Dico come trovarla Su google Ciao Veronica Ciao Ciao Veronica Ciao Detto ciò Ci tenevo tantissimo A fare questo video Troll Penso si era capito Già dall'inizio Semplicemente Per farvi vedere Quanto questi video Siano finti Era una parodia Se così si può dire Di come tutti adesso Per crescere su youtube Facciano questo Seriamente ragazzi Ho visto canali Con mille iscritti Dove realizziamo Video Fan me l'esce Mia mamma Me l'esce Mio padre Me lo mette in mano E poi me l'esce Ma dove Quindi ragazzi Questo video Alla fine nasce Come una semplice parodia Per farvi vedere Che il buon 99% Di questi video Sono tutti Preparati Mi è capitato Di leggere I commenti Oddio ti prego Esci la foto Ti prego Sono curiosissimo L'hai trovati Su google Basta scrivere Te Te Di fuori Voglio vedere I capezzoli E sono quelle Addirittura La cosa più allucinante È che alcune foto Sono prese Dalla prima pagina La prima pagina Di ricerca Le prime tre righe Sono le foto Di questi video Quindi ragazzi Ho fatto questo video Per perculare Diciamo tutti quelli Che fanno queste cose Sono sincero A un certo punto Mi ha anche Veramente dato fastidio Perché A me non piace Di per sé Fare scherzi O comunque Queste cose Non mi fa Impazzire Poi il fatto Che fosse Tutta una finzione Proprio Mamma mia Proprio Era per farvi vedere Che chi vuole Chiunque lo può fare Detto ciao ragazzi Io spero Il mio video Vi sia piaciuto Se conciate Nel pollice In su Qui sotto Al video Commentate Condividete E noi ci vediamo Ad un prossimo video Vi voglio bene E ciao Ciao PS una piccola informazione Per tutti i neo youtuber Quanto meno Se volete prendere spunto Non dico copiare Ma se volete prendere spunto Da Tyler Strike Quanto meno Fatelo con stile Se volete fare Quello che fa lui Per carità Non c'è nulla di male Ma fatelo Con una vostra innovazione E tornimi una fan Me le uscite E tornimi